Buonasera, 1 e 4 minuti, cominciamo quest'ultima edizione del telegiornale con le ultime novità sulla Banca Popolare di Bari, i cui vertici erano a conoscenza delle condizioni critiche, si è saputo oggi perché sono state divulgate delle registrazioni di dialoghi tra il Presidente e l'amministratore delegato, parlavano sapendo benissimo quale fosse la situazione, ma pensavano di poter continuare a gestirla solo tre giorni prima del commissariamento. Il 10 dicembre, a tre giorni dal commissariamento, Vincenzo De Bussis e Gianvito Giannelli ostentavano tranquillità. Amministratore delegato e Presidente della Banca Popolare di Bari, nel mezzo di uno spaventoso dissesto, sapevano che sarebbe arrivato il salvataggio e pensavano di poterlo gestire rimanendo al loro posto. Un percorso di messa in sicurezza che, assicura Giannelli, sarà molto breve e si chiuderà prima di Natale e ancora si sente negli audio ottenuti e diffusi da fanpage. Però c'è anche una fortissima attenzione a questo dato ed è un'attenzione che anche a livello politico è condivisa ai vertici e posso dirlo anche ai vertici del governo. Mentre De Bussis, amministratore delegato dal 2011 al 2015 e dal 2018 fino a cinque giorni fa, davanti ai dirigenti e ai direttori di filiale, si sfoga per la situazione ereditata. Questo è un esempio di scuola, di cattivo management, di management irresponsabile, di management esaltato. E tutti i conti economici truccati, truccavate pure i conti economici dei filiali, taroccati. I vertici a piccare della banca, pur consapevoli della gravità della situazione, pensavano dunque di avere ancora margine di manovra, ma così non è stato. Ancora tre giorni sarebbe arrivato il commissariamento seguito dal salvataggio tramite un decreto del governo che prevede un intervento da 900 milioni di euro. De Bussis, ora da indagato, dovrà rispondere di un miliardo e mezzo di risparmi andati in fumo e di un migliaio di posti di lavoro a rischio. Lavori che devono essere tutelati, dice in serata il Premier Conte a di martedì, che promette inflessibilità sulle responsabilità del management. E a proposito di banche, non si riunirà dopo domani la nuova commissione d'inchiesta sulle banche. La riunione serviva per eleggere il Presidente. Il Movimento 5 Stelle aveva scelto Elio Lanutti, che ha trovato l'opposizione di PD e Italia viva, non solo per quel ormai famoso tweet in cui citava il falso storico dei protocolli dei Savi di Zion, ma anche perché il suo figlio lavora proprio alla Popolare di Bari. Ora il Movimento cerca un altro nome, ma Lanutti non ha intenzione di tirarsi indietro. Sull'onda dello scontro per il salvataggio della Popolare di Bari è istituita una nuova commissione d'inchiesta sul sistema creditizio italiano, dopo quella che ha operato a fine della precedente legislatura. Il nuovo organismo parlamentare avrebbe dovuto riunirsi già giovedì per l'elezione del Presidente. Ma la seduta è stata rinviata. Il Movimento 5 Stelle ne ha chiesto fin da subito la guida e aveva anche designato il senatore Elio Lanutti, una scelta però non condivisa da Partito Democratico e Italia viva che parlano di soluzione inadeguata, visto il tweet di Lanutti d'inizio 2019 che rilanciava il testo antisemita, noto come protocollo dei Savi di Zion. Non lo voteremo mai, avvertono PD e Renziani, e così il Movimento è costretto a rinunciare alla candidatura di Lanutti, ma i pentastellati rivendicano il loro diritto ad indicare un altro nome. Lanutti non si arrende e dice io sono il candidato del Movimento e non farò nessun passo indietro. Ma a complicare la sua posizione ora arriva anche la notizia che il figlio Alessio è assunto proprio dalla Banca Popolare di Bari, un potenziale conflitto di interessi che il senatore liquida come macchina del fango. E a fiaco di Lanutti si schierano i suoi colleghi 5 Stelle e della Commissione Finanza del Senato che parlano di vile attacco e di conflitto di interesse risibile. E il ministro pentastellato Patuanelli aggiunge ma quale conflitto? E poi le capacità di Lanutti non si discutono. Ma in tarda serata il PD chiude definitivamente. Zingaretti è netto. Non si può dare una presidenza di questo tipo ad una persona che ha detto certe cose. Valuteremo altre candidature. Il Tribunale dei Ministri di Catania ha chiesto al Senato l'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini, l'ex ministro degli interni a dare notizie. È stato proprio lui durante un'intervista televisiva. Rischio fino a 15 anni di carcere. Ha detto Salvini il caso è quello della nave della guardia costiera Gregoretti. Rimasta ferma per giorni con 131 migranti a bordo nel porto siciliano di Augusta. L'ipotesi di reato per la quale la procura di Catania aveva chiesto l'archiviazione è sequestro di persona aggravato. Luigi Di Maio oggi ha incontrato in Libia i due contendenti, Aftar e Serraji. Nella stessa giornata li ha incontrati prima Tripoli, Serraji e Aftar a Benghazi. Il ministro nella stessa giornata dicevamo si sono nuovamente intensificati i combattimenti di una guerra arrivata a mettere l'una contro l'altra e probabilmente anche con degli uomini sul terreno, la Russia e la Turchia. Di Maio ha invitato a Roma i due contendenti, ha deciso di nominare un inviatto speciale per la Libia e punta così a riprendere un ruolo centrale nel paese africano, sempre più diviso appunto tra Russia, Turchia e anche mondo arabo. Di Maio vuole anche rilanciare il ruolo dell'Europa in vista della conferenza che si terrà a Berlino sulla Libia. ha detto di voler lavorare ad una missione guidata dal rappresentante della politica estera di Bruxelles, Borrell. Adesso parliamo di Arcelor Mittal perché è stato presentato una memoria al Tribunale di Milano che è chiamato a esprimersi sul ricorso dei commissari dell'ex Ilva contro la recessione del contratto della multinazionale franco-indiana. Nel documento ci sono pesanti accuse al Governo che ha violato gli accordi togliendo l'immunità penale. Intanto si continua a trattare possibile l'ingresso dello Stato in una niuco con una quota del 40%. Adesso parliamo di Papa Francesco che nel giorno del suo 83esimo compleanno ha preso una decisione storica. ha deciso di abolire il segreto pontificio nei casi di violenza sui minori da parte di sacerdoti. Era il 24 febbraio quando Papa Francesco pronunciò in Vaticano il suo discorso in chiusura del Summit sulla protezione dei minori. Dieci mesi dopo arriva una svolta storica per la Chiesa Cattolica. Il segreto pontificio nei casi di violenza sessuale e di abuso sui minori commessi dai preti è stato abolito e Papa Bergoglio ha deciso anche di modificare la norma sul delitto di pedopornografia inserendo tra i delitti aggravi ora, i delitti più gravi, la detenzione e la diffusione di immagini pornografiche che coinvolgano minori fino a 18 anni di età. Salta così in pratica ogni segretezza su denunce, processi, sentenze che riguardino i casi di violenza e di atti sessuali compiuti sotto minaccia di autorità, gli abusi sui minori e su persone vulnerabili, i casi di pedopornografia, le mancate denunce e le coperture degli abusatori da parte dei vescovi e dei superiori degli istituti religiosi. Tutti i delitti già citati nel recente motu proprio del Papa Vos Estis Lux Mundi. Resta il segreto di ufficio che però non ostacola l'adempimento degli obblighi di legge a partire dalle segnalazioni dei casi, elemento fondamentale per permettere ai sacerdoti informati dei fatti di denunciare, in pratica, il perno di ogni collaborazione con le autorità civili. Ma c'è anche un'altra modifica fondamentale. Finora la figura dell'avvocato e procuratore nelle cause poteva essere svolto solo da un sacerdote provvisto di dottorato in diritto canonico. D'ora in poi tale ruolo potrà essere svolto anche da un laico. La Francia ha vissuto un'altra giornata di grande mobilitazione contro la riforma delle pensioni che innalza l'età d'equilibrio per l'uscita dal mondo del lavoro a 64 anni. Nonostante il solito balletto di cifre tra polizia e organizzatori, in piazza c'era moltissima gente anche se meno rispetto alla prima giornata, quella del 5 dicembre. Continuano poi gli scioperi, i blocchi dei trasporti e i blackout elettrici causati dal sabotaggio alle cabine di distribuzione. Dopo Lione anche a Parigi alcune zone oggi sono rimaste al buio. E in serata i sindacati hanno fatto sapere che non ci sarà alcuna tregua di Natale. Hanno intenzione di portare avanti la mobilitazione fino alla fine di dicembre e fino a quando il governo non ritirerà la contestata riforma delle pensioni. È l'1.13, questo era il nostro ultimo servizio, la nostra ultima notizia. Noi ci ritroviamo domani e domani mattina. Come sempre torno all'informazione sulla sette. Arrivederci e buonanotte.